definiamo ille illa illud l'aggettivo e pronome dimostrativo che significa quello ma che può essere usato anche come pronome di terza persona non riflessivo nel significato di egli oppure al femminile di lei nominativo ille quello illa quella illud quella cosa genitivo illius di quello illius di quella illius di quella cosa dativo illi a quello illi a quella illi a quella cosa accusativo illum quello illam quella illud quella cosa ablativo illo con quello illa con quella illo con quella cosa vari complementi indiretti nominativo illi quelli ille quelle illa quelle cose genitivo illorum di quelli illarum di quelle illorum di quelle cose dativo illis a quelli illis a quelle cose accusativo illos quelli illas quelle illa quelle cose complemento oggetto ablativo illis con quelli illis con quelle illis con quelle cose vari complimenti indiretti